Una nuova iniziativa che vede protagonista è il carcere di Verbagna, persone detenute che si integrano nella società con la Via Crucis, un'idea innovativa per il territorio? Sì, un'idea speciale, semplicemente raccogliendo un invito speciale che è quello di Don Michele e che ci ha detto appunto che in Quaresima, a Domodosso, la Via Crucis viene animata dalla comunità e noi siamo una comunità, una comunità di persone, una comunità integrata nel territorio, una comunità che vuole esprimere la propria sofferenza e direi che il tempo di Quaresima è il tempo dedicato a questa sofferenza che poi si trasforma in speranza ed è un po' il percorso di tutte le persone detenute, di quello che dice questo articolo 27 di questa meravigliosa Costituzione che le persone devono ritrovare la capacità di reintegrarsi e la pena è già una Via Crucis, quindi poterla raccontare, poter raccontare la propria sofferenza e partecipare e forse dire anche alla società abbiamo sbagliato, lo sappiamo, però siamo qui anche capaci di riconoscerlo. Tecnicamente come avverrà domenica 5 marzo? Sì, sono un gruppo di persone detenute che hanno un programma che permette loro di lavorare all'esterno in questa voce lavoro rientra anche la possibilità di organizzare degli eventi, di partecipare a eventi culturali in questo caso un evento religioso, quindi con questo programma speciale approvato dal magistrato noi partiamo da Verbania, arriviamo a Domodossola dove ci dirà Don Michele e ci accoglierà e lì percorreremo insieme alla comunità la Via Crucis per poi andare tutti alla messa insieme.